Buonasera, oggi 22 ottobre 2020, sono tre anni dal referendum per l'autonomia che si è svolto, ricorderete, il 22 ottobre del 2017. Per la precisione 1096 giorni, racconta il nostro counter che continuiamo a mandare in onda, per ricordare quanto tempo è passato e quanta poca attenzione hanno dedicato all'autonomia i governi che si sono succeduti in questi anni. Presidente Zaia, lo avremo stasera a Focus, ne parleremo con lui direttamente, è un anniversario che va visto con ottimismo, nonostante sia passato tutto questo tempo, perché come ha detto il professor Mario Bertolissi, si sperava in una passeggiata, ma si sapeva che sarebbe stata invece una scalata lungo pendici molto difficili e molto pericolose. L'ha detto il professor Mario Bertolissi della delegazione trattante pochi giorni fa, ma bisogna che tutti i veneti sappiano che questa rimane la madre di tutte le battaglie, lo ha detto il governatore in tante circostanze, ha detto il governatore sarà una rivoluzione gandiana, faremo proprio seguendo, rispettando tutte le regole, tutte le norme, una guerra per arrivare a vincerla, ma non deve dormire sonni tranquilli Roma, ha detto ancora una volta il Presidente, perché non si arretra di un passo, si va avanti determinati, compatti, con 2 milioni e quasi 400 mila veneti che quel giorno sono andati a votare. Quindi non bisogna farsi prendere dal pessimismo, non bisogna pensare che ci siano chissà quali dietrologie per fermare l'autonomia qui in Veneto, no, l'autonomia la vogliono fermare a Roma e sono i poteri occulti o forti che dir si voglia, sono le camarille, sono le clientele, non è la popolazione che sa che si tratta di un'absoluzione di responsabilità. Non sa la verità, quindi prima o poi ci si arriverà, se non con questo governo, sarà un altro, oppure l'altro ancora, ma ormai il solco è tracciato e non si torna indietro. Pensate a quanti sforzi sono stati compiuti dal Presidente Zaia, dai costituzionalisti che lo hanno affiancato, dall'ex Ministro Erika Stefani che sentiremo stasera, tra l'altro in diretta, durante E-Focus, per arrivare a questo obiettivo. Non è soltanto la necessità di avere più risorse, di avere quel poco, molto più di quel poco che ci danno con i trasferimenti, con un residuo fiscale di 15 miliardi. Pensate quanti soldi sono, non sono solo le risorse, è una questione di dignità e di libertà. Non si può stare al guinzaglio, più di tanto, a uno Stato centrale che continua a dettare legge e a offendere spesso e a mancare di rispetto nei confronti di una popolazione che ha una storia millenaria. Quindi si va avanti, compatti in questa direzione, con questa bandiera, per affermare dei principi che sono sacri e inalienabili dopo un voto, quello del 22 ottobre del 2017.